Nel gennaio 2019 le condizioni del viadotto Puleto lungo la E45 erano critiche, la struttura versava in uno stato di grave ammaloramento dovuto a decenni di usura e lavori di manutenzione in ritardo. Il tutto avrebbe così reso l'opera potenzialmente pericolosa, almeno in alcune parti. Queste le prime indiscrezioni che filtrano dalla seconda superperizia sul viadotto. Per il Puleto i sigilli erano scattati il 13 gennaio 2019 per rischio collasso, per poi essere riaperto nove mesi dopo. La vicenda era così finita al centro di un'inchiesta giudiziaria a cinque in tutto gli indagati tra dirigenti, funzionari e tecnici ANAS, accusati di omissa manutenzione. Lo scorso gennaio il GIP aveva disposto un nuovo incidente probatorio ad integrazione del precedente accertamento svolto dall'ingegner Claudio Modena, che non avrebbe risposto su sufficientemente, a due quesiti posti dalla procura, quello sulla pericolosità della struttura prima del sequestro e quello sul ruolo degli indagati. Era stato così incaricato l'ingegner Vincenzo Laudazzi. La relazione adesso è stata depositata in tribunale ed il prossimo 9 settembre sarà proprio l'esperto a disporre di fronte al GIP Giulia Soldini i risultati dello studio da lui svolto. L'ingegnere sarebbe dunque giunto, stando a quanto emerge dalle prime indiscrezioni, a conclusioni ben diverse rispetto a quelle della precedente perizia, che seppur riconoscendo il deterioramento del viadotto, escluse il rischio crollo. La relazione adesso sarà al centro delle domande della procura e della difesa degli indagati, alla luce di quanto emerso poi sarà il PM Roberto Rossi a tirare le conclusioni e valutare se chiederò meno il rinvio a giudizio degli indagati. Trattandosi di un reato contravvezionale, il magistrato potrebbe anche citare direttamente in giudizio gli indagati. Infine sull'E45 si avvicina la tanto attesa conclusione dei lavori da 2 milioni e mezzo di euro per rinforzare il viadotto.